Allora ragazzi, ben ritornato sul mio canale, io sono Barry. Ragazzoni, questa è la faccia di un ragazzo che dopo non so quanti tentativi, forse 7, 8, 9, non lo so, di nuke, è riuscito finalmente, insieme al Piz Team, che ormai, vabbè, lo conoscete, è riuscito a tirare una nuke su Raybeard Island. E ve lo dico così ragazzi per un semplice motivo, perché questa è la nuke più strana, avete visto anche l'ultimo video, più strana, più, come dire, più quasi no sense, che siamo stati introdotti in game per una serie di circostanze. La prima è che si basa tutto sul dover shoppare, praticamente, cioè tu devi andare allo shop durante i saldi cercando di shoppare, ma il problema è che devi fare una valanga di soldi, cioè parliamo veramente di 150, 170 mila dollari. E tutto questo, ragazzi, è fattibile solo se nel frattempo, mentre fai le sfide, non muori, cioè, una roba allucinante. E, attenzione, deve esserci una lobby, tra l'altro, che ti consente di farlo. Cosa intendo? Non che ti aiutano, anzi, che ti fanno un po' i cavoli loro e soprattutto non giocano contro in maniera sporca, perché ci è successo in un tentativo precedente dove l'abbiamo quasi tirata, letteralmente un team, l'ultimo rimasto, si è suicidato per non farci piazzare praticamente l'ultimo elemento. Ragazzi, che dire, la partita l'avremmo caricata tutti, le pov sono molto diverse perché in realtà ognuno aveva il suo scopo, specialmente nell'endgame, secondo me è molto bella la pov mia nell'endgame. E, ragazzi, la classe che utilizzo, e altro non è, che è lo SVA con l'HMR9. L'HMR9 che io ho messo il calcio rimosso perché l'hanno nerfata, è un po' staccata, ma col calcio rimosso, ragazzi, è divertentissima, mi piace molto di più della Renetti col kit di conversione. Ragazzoni, godetevi questa Pizz Nuke, tra l'altro siamo i primi in Italia a credo di averla tirata in live e quant'altro. È stata un'impresa titanica, ma ce l'abbiamo fatta. La skin è fighissima, tra l'altro, ragazzi, basta, non mi dilungo, vi lascio al video, godetevelo, buona visione. Ricordo a tutti, ragazzi, che ogni prime leva 20 secondi. Dai, raga, eh, forza. Ogni prime leva 20 secondi alla nuke che abbiamo collegato gli account. Vado lì? Aspetta, devo andare a quello pingato qua, hai detto? Sì, sì, sì. Ok, vado là. Vedi, lì a quarter, sì, non so se riesco a entrare e avviare la roba, eh. Dai, non prendo. Io sono full libero, eh, full libero, raga, ripeto, full libero. No, lì a quarter ho visto che c'è gente, vero. Eh, italiani, raga. L'ho preso. Eh, Dario. Da finire la caraggio, oh. Raga, io ve lo dico, l'ho rischiato prendere assolutamente questo. L'ha c'è un contratto molto importante. Tenete le teste, raga. Oro buono, dai, non male. Un rischieramento, Dario, Pielo, se vuoi. Ando a prendere la roba gialla, Fede? Questa, no? E' bene qualsiasi, anche quella blu, berro. Eh, vai, prendi quella lì. E quella là non è da fare, invece. Mi sparano. Raga, sincero, abbiamo ancora tempo di prendere questa. Chi ne pensate? Prendi, 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 prendi. Io, sì, la pusciamo così fortissima, raga. Stacca e studia. Aspetta, Leo, io da un attimo aspettare, tu prendi prima. Raga, mi serve una mano, eh. Cioè, a ricordo di me, mi serve i laser, non muovo, ve lo dico. Andiamo da verro? Vi pushano, vi pushano, raga, da dietro, Fede. È qua, è qua, è qua. È il compagno di quelli che ho fatto io, ce l'hai lì? Prendi questo. Moriamo. Ucani, zio. Minchia, che due colti di pezio, ma vaffan. Lo bombardo, lo bombardo, lo bombardo. Arrivano. Però questo di là è addosso. Sì, ma sono Itos, raga, sono Itos. Andiamo a prendere la taglia? No, è scoperta. Andiamo a prendere il contratto, raga, sennò va a finire come prima, eh. Dobbiamo prenderlo. Vado a prendere questo, questo, prendiamo. Andiamo lì, andiamo lì, andiamo. Ma raga, ma ora guarda, guarda, zio, vi stanno pushando tutti, raga, tutti. Attivo o no? Attivo o no? Dai, via cane, come il tuo padre. Attiva, 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 attiva. Due pati, dai, via. Bravissimo, bravissimo, attiva, vai. Cercate le casse, raga, quelle buone rosse, se le avete in zona. Vai, allora. Allora, per comprare una guafiti di rifordimento. Vado. Uno mi l'ha inda addosso, raga, qui dietro. Vedi? Vabbiamo. Prendevo questa cassa, ora la prendo, ah, la prende tu, ok, vai. Uniti, raga, adesso uniti, pushando tutti. Si le andano, si le andano. Arriva. Andiamo verso contro, raga. Tuttato. Lo sento, raga. Fatto. Lo interrogo, lo interrogo, lo interrogo. Senti, li sono loro, bro, sono sul tetto che ci mirano in tre, raga. Mi faccio... Eh, non posso, raga. Non ho dietro anche... Raga, senti, siamo vicini, pushando quelli contro. Raga, raga, rasta, andiamo... Citatevi, raga, ruotiamo in un'altra direzione. Facciamo questi, Leo, facciamo questi questi. Vai, facciamo questi sotto, venite, venite. Vai, interrogo, interrogo, interrogo. Vai, senti, vero. Vai, pushate questi, ve li marchio. Andate a farli tutti, ragazzi, li trovate. Aspetta, gli faccio la mossa. Scusi, tu. Non l'ha fatta, amici. Non lo finisco, raga, qua sotto. In app, non ha senso. Raga, abbiamo 180 capponi, raga, eh. Allora, iniziamo, trassatemi. Andiamo in un'altra zona. Ma che stiamo in una merda, attraversiamo tutto e andiamo, tipo, dall'altro lato della mappa. Vai, backward. Ok. Vero, vero, vieni qua, vero. Eh, aspetta, lutto le casse, raga, minchia, abbassami, dà soldi, cioè, non le lascio indietro. Eh, raga, allora, tre che... Allora, tanto è una questione soltanto di... Eh, raga, prova ad apritele le casse, raga, non passateci via, perché comunque abbassano, eh, danno soldi. Ah, raga, non mancano ancora due minuti, mancano. Allora, vai, vai, continuiamo. Eh, raga, c'è, era pieno di casse qua dietro. Mi pare che siamo vicini, raga. Comunque, dopo, tre che controlla e tre che sciopano, raga, eh. Se no ci vengono a prendere questi italiani, sicuro. Guardate un attimo, ragazzi, dammi... Dario, andiamo top, vieni. Venite tutti qua, Leo. Ah, raga, io devo vendere la chiave, io ho ancora la mia chiave. Raga, ho trovato questo, raga, ho trovato questo. Cosa? Ah, no, lui aveva avanzato delle casse, mi sa, la roba... Dario, fai qua, Dario. Raga, per me tocca killarli. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Vai, bravo, interroga. No, ma che interroga, lì davanti. Chi c'è il zio? Con tre. Dietro, dietro uno, dietro uno, dietro uno, no, no, no. Oh, mi deve finire. Minchia, che cagnaccio bastardo bastonato. Mancano cinque secondi. Ciao, veloci. Andiamo... E chi è che non sopra, raga, uno che covera. Raga, serve uno che prende il coso, eh. Ben sì, ci pensi io, ci pensi io all'elemento. Fermi, 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 fermi. Basta, 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 basta. Raga, abbiamo un botto, ragazzi, abbiamo un botto di soldi, ragazzi. Si può fare, giuro su Dio, si può fare. Perro, tieni, perro. Elemento, uno vada su, uno vada su, uno vada su. Vai, 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 cade giù, cade giù, cade giù, cade giù. Minchia, veloce. Minchia. Dai, prendilo, Fede. Siamo pronti? Aspetta, 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 aspetta. Vai, vai, vai. Non è partito il tempo ancora, raga. No, fermo, è vero. Ora, 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 ora. Vai, 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 fa niente, vai. Ho sprecato 4K, amen. Vai, ma sì, per adesso ancora compro, Leo. Cioè, è ancora lunga la situazione. Comunque sì. 6 minuti. Dai, raga. Vai, a volte chi controlla, Leo? Controli te, a volte anche io controllo. Leo, un minuto? Vai, raga, vai, vai, vai. Eh? Fermi, fermi, fermi. Vai, 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 veloce, veloce. Raga, raga, dai, un pezzo, raga. Raga, abbiamo un pezzo, raga. Dai, dai, dai. Dai. Sopra, sopra, è matto questo. Sopra, sopra, raga, vai. Tu sei matto, eh. Sono matto per questa merda, dai. Vai, 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 è la passion, ragazzi, è la passion. Ma lo die full, poi, raga. C'erano ancora tutti, minchia, altro che quelle lobby morenti con due player dentro. Zitto, 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 non dire un cazzo, cioè. Prendilo, Fede, prendilo, vai, vai. Pronti? Smocco, eh. Aspettate il timer. Aspettate un attimo. Timer che parte. Prendilo, Fede. Aspetta. Io non ho preso. Vai, 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 vai. Veloci, raga, cliccare. No, no, no. Vai, vai, vai. Non ho più soldi, non ho più soldi. Andiamo a iniziare, raga. Inizia la caccia, vai. Io non ho più soldi, io non ho più soldi, raga. Vai, andiamo. Venite, ragazzi. Bryson, andiamo a top Bryson, anche qui. Pieno, 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 pieno davanti a me. Quanti flyer avete voi, raga? Uno, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Io dove trovo casse. Raga, casse a manetta anche. E sciocchiamo dopo. Flyer? Vai, interroga, 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 interroga. Eh, c'è un amico, c'è un amico, eh. Vabbè, t'aiuto, t'aiuto, vai. Vabbè, quella merda lì che... No, dai, zia, non me lo fai. Lo sto interrogando io, vai. Lo interrogo? Sì, niente. Andare subito. Ah, no, potrebbe essere minuto. Fatto, pullato. Ok, 4 minuti, raga. Attela, placche, 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 placche. Vai, vai, vede, 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 vede. Non ho più vai. No, raga, mi han cecchinato, raga. Da lontà. Uno che mi resta. Scioppate, raga, scioppate subito dopo. Contrate a smoccare, contrate a smoccare. Siamo sotto, siamo sotto, siamo sotto col timer. Scioppate. Siamo sotto, vai, vai, dobbiamo continuare, continuare. Vai, 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 vai. No, tocca avere, tocca avere. Allora, 30 secondi di vantaggio. Ascoltatemi, almeno 30 secondi di vantaggio. Dai, 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 dai. Ce li abbiamo, ce li abbiamo quasi 30, raga. No, no, sono tirati, tirati. Sì, sì, bastano le casse, raga, le casse. Venite qua giù, 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 con casse sempre, raga. Scioppiamo, raga, scioppiamo, scioppiamo tutto quello che avete. Mettete giù i soldi, anche qua, tutto. Tre, quattro piastre in più fa la differenza, vai. Prese, prese. No, regala, non ci aspettiamo. Ragazzi, ascoltatemi, dobbiamo andare tutti i top, tutti i top, se no dopo ce lo prendono l'uno. Qui siete? Sì. Venite, venite. Ragazzi, siamo a un minuto e trenta, siamo sotto di un minuto. Poi c'è una cassa qua, cassa. Soldi anche. Scioppa, scioppa, sei soldi, scioppa, Dario, scioppa. Vediamo i soldi, vediamo i soldi, prendi anche i nostri soldi, zio, un minuto, siamo sotto di un minuto quasi, vai, veloce. Vai, ti tieni i soldi, vai. Si renda, si renda uno. Fatevelo, fatevelo voi. Morto, morto. Raga, raga, non dobbiamo più chillare. 20 secondi, basta, basta, basta. Ma questi sì, rega. Forse quello là. Qualcuni, rega, che volete che la destra si sta? 1, 2, 1, scende ora, scende ora, scende ora. Non c'è l'elemento, raga, attenti, è due team. Vai, 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 vai. Stiamo su, stiamo su, raga, l'elemento arriva qua. Sta cadendo, sta cadendo, chi è che hai i pezzi? No, rega, è pure safe, bro. No, è qua, è qua, è qua. Ciao, ciao. Devi prendere te, Fede, lo devi prendere te, Fede, lo devi prendere te. Rega, mi dovete una maschera, vi vedo. Fede, prendi il coso, prendi il coso. Non so io una maschera, Fede. Raga, tocca a busciare, rega. Toro gli italiani, bro. Smoke, smoke, andiamo. Gli smoke in faccia, eh. Non è caduto il pezzo. Possiamo chillare questi bastardi? Sono un team. Ci muoio, ci muoio, ci muoio, raga, non andate lì. Smoccate se riuscite. No, rega, tocca a top, rega. No, mi ha toccato il bombard. Guarda il top, rega. Siamo 4 di 3, rega, mi stiamo pushando. E io questi, rega, mi stiamo pushando. Mazzastica, rega, non fia di luce. Vai, Fede, vai, 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 l'ho lockato, vai. Raga, adesso, vado a pinzare. Vai, 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 Fede, vai, vai, corri, corri. Ce l'ho da me l'ultimo, ce l'ho da me l'ultimo, ce l'ho da me l'ultimo, giù. No, no, ma questi cazzi, non lo vogliamo fare, non lo dobbiamo fare. Non devi killarlo, non devi killarlo. Lo so, lo so, dico. Vai su. Oh, io sono nato a terra, rega. Vai, vai su, vai su, Fede. Vieni, vieni sopra, Fede, se riesci. Vieni, vieni, vieni. È l'ultimo, rega. È fuori safe, mi sa che muore nella tempesta, rega, non ci sto credendo. No, siamo 3. Vai, piazza, la piazza, la piazza, Fede. Qualcuno deve piazzare, rega, non ce la faccio, qualcuno deve piazzare. Vai, tu, dare, ho molla i pezzi, devi metterli. Vai, berro. Non ce la fa, non ce la fa mai. No, io, 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 io. Ce la fa, ce la fa, ce la fa a piazzarla. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ce l'avete un flare per me, ce l'avete un flare per me, ce l'ho io, ce l'ho io. Vai, resti qui. Tornando, signori, sto tornando, merda. Ragazzi, ma come facciamo a difenderla, siamo morti? No, raga. Chigliamoli, forse se li chigliamo si a zera, raga. No, no, no. No, ma finisci. Signori, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta, signori. No, siamo morti, raga. No, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, cazzo, guarda qua. Godo, Godo, domino. L'hanno dominata, l'hanno dominata, ragazzi. Dominio del campione, i pezzi sono i campioni, ragazzi, i campioni. Ma, ma, meno male. Let's go. Nella roba della kill, meno male. Geniale, Dario Ortiz. I campioni di Warzone, ragazzi, i campioni di Warzone. Bravi, 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 bravi. Mamma mia. Uuuuh. Uuuuh. Grazie a tutti.